Non ha avuto scampo il quarantenne già rese Claudio Trovato, deceduto sul colpo ieri pomeriggio poco dopo le 17 in seguito ad un tragico incidente. L'uomo stava percorrendo la strada che d'altarello conduce a Carruba a bordo di uno scooter Yamaha Magesti, quando dopo aver superato una vettura che lo precedeva lungo la corsia si è trovato di fronte un SUV Toyota RAV4. Lo scontro è stato inevitabile, un impatto violentissimo come testimoniano le immagini del fuoristrada. Il centauro è stato sbalzato in aria ed ha poi sbattuto violentemente il capo sull'asfalto. Una caduta rovinosa non attutita dal casco protettivo che il quarantenne non indossava. Inutile l'arrivo dei soccorritori, i sanitari del 118 dopo un breve tentativo di rianimazione non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuta morte. Sotto shock l'uomo alla guida del SUV, l'automobilista un 45enne che viaggiava solo non ha potuto in alcun modo evitare lo scontro frontale con lo scooter, che stando ai rilievi compiuti dagli agenti della polizia municipale gerrese, procedeva ad alta velocità. L'uomo è rimasto ancora più turbato dopo aver appreso il nome della vittima, un suo conoscente. È stato così accompagnato a casa dai vigili urbani per riprendersi dallo shock. Il quarantenne impiegato nell'impresa edile del fratello era noto in città, sgomenti gli amici che in serata hanno raggiunto il luogo dell'incidente. Grazie. Grazie.